no no parla però eh va piano vai e' un problema di tuffing run no ah bene fa la teremenza vai e' tu velocità da 2 a 4 a 6 a 8 a a a 10 a 12 a 12 ma ne ho visto visto a sedile ah no vai ah 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 insomma alla fine alla fine Della fine vendita che dici?